Allora, però fammi cominciare da cavo, se no non si capisce niente e diventiamo scemi. Tu non puoi andare in galera, c'era di noi di sensibili! Pensavo che non vi fai una scuola di edizione. Oh, io ho portato i bomboni. Oh, a ridaglie, niente bomboni, è una cosa pacifica. Quindi i vostri propositi erano già definiti? Ma non ha più a gelato. Ma tu lo capisci quando parla. Ma l'hai indagata sta cosa con un professionista? Cioè gliel'hai spiegato che quando una cosa buona è liscia te ti metti a fare i numeri da circo per farla finire a sangue e merda?